La lista unitaria è la più forte possibilità per fermare questa deriva incredibile e ribellarsi, fatemelo dire, a un'idea brutta della politica che cavalca le paure delle persone generate da tanti problemi. No, noi siamo quelli che vogliono risolvere i problemi che generano le paure alle persone, ma bisogna combattere e cambiare questo paese. Voltiamo pagina per l'amore dell'Italia.